Enzo Avitabile, maestro grazie di essere qui, grazie di essere qui con la tua presenza di musicista, di cantautore, di polistrumentista, maestro di conservatorio, docente universitario, che dobbiamo dire ancora? Niente, grazie a voi di questo invito. Tu hai messo insieme il pop, il rock, la musica afroamericana, la musica tradizionale, la musica sacra, è un lungo viaggio quello della musica il tuo, è un viaggio che non si è affatto concluso e un viaggio che parte da Marianella. Parte da Marianella che è un quartiere di Napoli. Correva l'anno del signore nel 1955. Certo. E tu eri un bambino che amava la musica? Sì, amavo la musica, questo è un territorio già di per sé consacrato alla musica, perché c'è nato Alfonso Maria dei Rigori, Sant'Alfonso, che è un po' l'inventore del sacro popolare. Ma dal jukebox provenivano queste note, io ne sono rimasto affascinato, quindi mi piacevano molto quei suoni che uscivano, una musica amica, che era quella di James Brown, Tina Turner, Africa Bambata, Ricciardo. Con cui hai suonato poi, realmente? Con cui ho suonato. È uno strumento che in quella musica faceva da protagonista, che è il sassofono. Però tu sei anche docente di flauto, sei maestro e conservatore di flauto. Quanti strumenti suoni? Io sono uno che cerca di imparare sempre. Quanti strumenti suoni? Ma quando scrivo li suono tutti, perché quando fai composizione, diciamo bene o male, tu scrivi e quindi suoni anche cose che non puoi suonare. Sicuramente non suono l'Oboe, però dei concerti per Oboe li scrivo. Questa è la bellezza della composizione, riesci a scrivere anche gli strumenti che non sai e che non puoi suonare. Per sommi capi ricordo solo che hai vinto due Targetenko, che hai vinto più volte, il premio Severino Gazzelloni a proposito di flauto, che c'è un docufilm firmato da un premio Oscar, Jonathan Demme, dedicato a te, presentato a Venezia. Tu stesso hai firmato molte colonne sonore, tra cui quella del Vangelo di Pippo del Bono. Cominciamo dall'inizio. Allora, perché hai scelto di cantare inizialmente in dialetto napoletano? All'inizio ho cominciato in italiano. In realtà all'inizio cantavo questa sorta di fonema che usciva dal jukebox. Poi ho cominciato a approfondire i testi, che erano quelli originali della musica afroamericana. Dopo l'incontro con James Brown ho avuto una mia personale proiezione, quella di avere un mio suono, un suono da riportare nel mondo, che sia riconoscibile. Quindi mi sono affidato a delle fonti sicure. Una che era la lingua dialettale napoletana, che mi dava già di per sé un suono, ma oltre a un suono mi dava una possibilità espressiva di autenticità. E poi mi piaceva molto anche riappropriarmi della scala napoletana, che è di origine greca. Mi piaceva riappropriarmi dei ritmi di partenza originale, quindi per esempio della tammurriata, oppure dei ritmi dei bottari, della pattuglia pastellessa. Questa per me era una possibilità di muovermi nei suoni del mondo, conservando fortemente la mia identità, ma sposandomi con le conoscenze che arrivavano dagli altri popoli. Tu non ti sei mai fatto chiudere, o era impossibile farlo, nell'etichetta di cantautore napoletano? Ma io cerco di, io ho un'incoietudine, uscire da un genere e diventare io il genere, nel senso che io vorrei toccare tutte le forme per dar vita a nuove forme che in realtà non hanno forma, che sembrerebbe un gioco di parola, ma poi non è così. Prendendo a prestito dai grandi maestri del passato, no, perché non scrivere un mottetto? Perché non scrivere un requiem? Perché non scrivere un chiria? Perché non scrivere un de profundis? Magari parti da queste forme di partenza, però poi ti ritrovi in un nuovo linguaggio che in realtà non riesci più a definire. E quindi ecco la musica, la musica che va oltre le definizioni. Sicuramente ci sono dei punti di riferimento, è naturale che noi usiamo erroneamente la parola musica classica, dovrebbe essere musica esatta, come diceva Bernstein, però ci servono come punti di riferimento, altrimenti se entri troppo in questo tipo di schema, la musica classica è quella di Grecia e dei Romani, però siamo anche più veloci, noi diciamo jazz e capiamo bene o male il bacino nel quale ci vogliamo muovere. Tu ti muovi in tutti i bacini però, tutti li attraversi, in trasi… Sì, l'inquietudine è di fare tutta la musica, di conoscere la musica e di ascoltare una musica che fino a questo momento non ho ancora ascoltato, questa è la cosa che mi piace. E dove la vai a cercare quella non ascoltata? Nell'incrocio dei suoni, nella ricerca, nella parola, nel suono, nel gesto e a volte anche nella danza, che è un altro elemento di comunicazione. Essere napoletano ti ha facilitato o qualche volta ti ha frenato? È stata una gabbia qualche volta o invece una possibilità liberante? No, essere napoletano non ti frena mai, perché essere napoletano è una garanzia di avere comunque una grande storia, di avere dalla tua parte Pergolesi, Cimarosa, Paesillo, Benedetto Cruce, di avere il mare che porta l'eco di voci lontane, tesori immensi, segreti immersi, alta, bassa marea. Napoli è questo, quindi se la vivi in questa maniera… Questo è già stesso di una canzone, lo sai? Magari l'ho detto, però la cosa che mi piace è anche questo, è così come sei cosciente pure di avere una squadra che magari va bene e quindi vince una partita. Noi siamo questo, siamo l'insieme di una serie di codici che passano da un codice diciamo che abbastanza di coscienza più grossolana a qualcosa di più alto. Parentesi, un rapporto con Pino Daniele? Oh, è autentico, un rapporto quasi da marito e moglie, nel senso che noi abbiamo fatto un mare di notte, molti suoni, molti sogni, molte probabilità, incomprensioni, litigi, di pace, come si fa tra amici, come si fa nella vita, perché la vita è anche crescita e si cresce pure dai propri limiti. Il superamento di qualcosa è proprio questo, superare il codice che ieri ti chiudeva, oggi diventa un passepartout per la nuova possibilità proprio di connessione con gli altri. E poi l'ultimo brano che ci unisce per sempre, è ancora timpato che è l'ultimo brano che Pino ha cantato in napoletano e che sicuramente è veramente un mantra rituale della musica mediterranea. Senti, tu hai cantato, citavi prima James Brown, penso a Bob Geldof, penso a Tina Turner. Non è comune questo respiro internazionale? A chi ti sei ispirato? Ai miei sogni, perché io ho sognato prepotentemente di incrociarmi con questi grandi artisti. Ma tanti sogni, non ci riescono. Però non lo so, sicuramente la mia vita è caratterizzata dagli incontri. E poi ho avuto chiaramente persone che hanno anche lavorato con me in questo progetto, con il mio manager Andrea Ragosa, che mi ha aiutato in questa possibilità, per esempio, di incontrarmi e incrociarmi con tutte le razze e quindi cantare questa canzone che in realtà poi vuole dimostrare che esiste un'unica razza che è quella umana. Così come in passato Mimmo d'Alessandro, per esempio, mi ha aiutato in alcuni incontri con James Brown, con Rich Evans, con Tina Turner. E' un lavoro che fai sicuramente nella tua anima, nella tua ricerca interiore, anche è un lavoro di volontà, perché la volontà è un grande dono anche divino in un certo senso, è avere la volontà di seguire un sogno attraverso una probabilità. Ma ci sono anche gli altri che lavorano insieme a te in questa sorta di militanza ed è una militanza che vive di sudore e anche di tanti sacrifici. Ci sono molti altri nel tuo ultimo disco che hanno un titolo strano, perché si chiama Lotto Infinito e in realtà l'origine è Lotto Zero, che è un quartiere di Ponticelli, no? A Napoli. Questa è una cosa bellissima che è capitata. Io passavo per questo Lotto Zero e c'era questo striscione che era lì su un'inferriata e sul quale c'era scritto Lotto Infinito. Che Lotto Zero tende lì. Esatto. Io mi sono ispirato a questa frase, a questa visione. Poi non appena è uscito il disco ho ricevuto una lettera del fratello del parroco di questo rione, che è Don Vincenzo Liardo, che a me è scomparso prematuramente a 40 anni e che è stato poi l'inventore di questa visione. Pensate che a lui non piaceva Lotto Zero, decise di ribattezzare questo rione di case popolari Lotto Infinito. Don Vincenzo Liardo ebbe questa intuizione, quindi creò un'associazione per giovani, creò che fece un campetto di calcio e questa cosa poi mi è rimasta impressa e mi sono detto che è bello se noi partiamo in questo rapporto tra il finito e l'infinito, costante, quindi il punto è l'universo, la goccia d'acqua è l'oceano, il microcosmo è il cosmo. Se io racconto una piccola realtà, racconterò anche una realtà dell'universo, poi la periferia, c'è una periferia che ho trovato simile a Roma, c'è una periferia che trovo simile a Milano, a Londra, quindi mi sono detto cominciamo a trattare e cominciamo a dare attenzione a queste terre, ribattezziamo le terre a svantaggio, non più terre povere, non più terre di degrato, per buon augurio e ribattezziamo questi nostri fratelli non più emarginati di serie dati, ma fuori di vista, perché c'è qualcuno che non vuole vederli, così cominciamo già da un percorso di positività e poi mi sono detto che è bello una visione, se dal profondo delle vele di scampia, Giorgia che è la The Voice, la nostra voce, canta questo inno agli uomini di tutti i giorni, quindi non è un inno a uomini illustri, ma un inno a uomini dal nome come Pasquale, Giovanni, Peppe, Concetto, che chiedono fortemente di essere riconosciuti in questo passaggio ad uomo che comunque la vita comunque va avanti e comunque ogni uomo rivendica la sua esistenza. E non solo Giorgia, De Gregori, Mannarino, Renato Zero, Paolo Preso, Caparezza. E questa cosa è bella perché è un omaggio agli uomini di tutti i giorni che tendono di arrivare a fine mese e riuscire a portare i figli all'università, è una cosa sempre, niente di eccezionale. Ci riescono? A portare i figli all'università, sì. Quindi Napoli non è solo negatività? No, io dico le periferie del mondo, no, Napoli non è solo, ma poi Napoli non è negatività, Napoli è positività. È una questione di punti di vista, no? Ma in ogni luogo c'è comunque qualcosa che non è a posto. Eh, voglio essere brutale, se parliamo di città del sud, periferie degradate, Napoli invece? No, questo è uno stereotipo. Eh, ho capito, l'uso a posto. C'è tanta periferia, allora, c'è tanta periferia nei centri storici, c'è periferia anche nei centri storici più importanti. Come? Perché periferia è tutto ciò che si muove out of sight, cioè fuori di vista e c'è questa periferia comunque ovunque, c'è sempre. Quindi non è solo la mia città o un'altra città. Come fare a tirare l'attenzione su ciò che non vuole essere visto? Ma guardate, il Papa prima di noi ha detto che esistono le periferie esistenziali, non è che è solo la periferia in questo senso qua. Bisogna cercare, come si dice, no? Non cercate, se volete imparare Maria, andate dagli studiosi. Se volete conoscere Maria, andate dal popolo. Se noi vogliamo conoscere le realtà fuori di vista, svantaggio, dobbiamo stare nel popolo e con il popolo. Tu come lo frequenti il popolo? Normalmente tutti i giorni. Io abito a Colna Minei, che è una sorta di quartiere, diciamo, di frontiera, perché sta a cavallo tra la Napoli Nord e il Vomero. Quindi io posso scegliere ogni giorno che cosa fare, se stare nella parte, diciamo, più tranquilla, più agiata e nella parte un po' a svantaggio. Prevalentemente, diciamo, verso più, vado più verso la parte a svantaggio perché oltre ad essere la mia terra d'origine, credo che sia pure incoraggiante frequentare il territorio, cercare di rendersi utile attraverso pure un lavoro, non lo so, che può essere quello associazionistico, che può essere quello di creare laboratori, creare iniziative. Fai così? Ti provi? Non posso dirlo, perché quando si fa una cosa è preferibile non dirlo, altrimenti diventa… Ma io te l'ho chiesto a posto e speravo che mi rispondessi così. Ecco, purtroppo non faccio niente, vado solo a bere il caffè. Senti, è un disco, allora nella musica c'è il pop, c'è il jazz, c'è la world music, c'è la tua voce con quella degli artisti che abbiamo citato prima, ma i testi sono pesanti. Pesanti è una parola provocatoria. Nel senso che hanno un peso, hanno un valore, bisogna ascoltarli e bisogna pensarli, giusto? No, bisogna solo essere attenti. Ogni cosa diventa pesante se noi siamo disattenti. No, ma il peso in senso positivo, dicevo, eh. Basta essere solo attenti, uno non perde assolutamente il significato di un messaggio. I testi napoletano sono tuoi? Sì, i testi napoletano sono miei, ma questi in generale, anche se noi ascoltiamo musica africana, c'è sempre un centro del testo che bene o male si muove in un messaggio, perché noi diciamo la parola, il suono e messaggio, la parola e messaggio. Dal profondo sto gridando a te, ascolta la mia voce, di per sé è già un messaggio. È evidente che se uno vuole approfondire la preparazione a questo tipo di messaggio, diciamo finale, deve prestare un po' di attenzione. Per la lingua dialettale napoletana è naturale che se non conosci il dialetto perderai un po' più di tempo. Forse è così per tutte le culture che ne abbiamo scordate. Sì, anche per essere un ascolto, voglio dire, io credo che pure se uno ascolta un pezzo di Beatles, tolto diciamo lo slogan del brano, quello dell'inciso, diciamo, difficilmente ricorda tutti i testi e focalizza ogni passaggio. Senti, dicevo prima che tu hai fatto molti viaggi nel mondo della musica, nel mondo dei suoni, ma che anche sei un cercatore infinito, nel senso che tu cerchi risposte e cerchi continuamente la risposta. Ho detto che cerchi Dio e al di là di qualche parola che hai buttato lì in questo nostro pezzo di chiacchierata, qualche citazione, porti un rosario a una mano, una medaglietta della Madonna, un altro, un altro da esibizionismo, cose… No, sono un cristiano in cammino, nel senso che sono cose che utilizzo, il rosario lo utilizzo… Tu sei sempre stato cristiano, hai attraversato molta… Io sono stato cattolico, poi Tina Turner mi avvicinò al buddismo a Dinizio Rendascioni, poi un'altra esperienza della mia vita è stata con Corrado Rustici, un maestro, un guru che era sdriccimoi, poi sono ritornato… Cosa cercavi Enzo? Sempre la stessa cosa, la comprensione sottile, la comprensione sottile di qualcosa che è al di sopra di noi, ma che comunque è anche dentro di noi… Perché hai bisogno di Dio? Perché ci credo, ci credo però voglio… da uomo nel finito vorrei… Capire? Capire? Capire è impossibile, vorrei essere in una sintonia anche di comprensione nel grossolano quotidiano… Come tutti vorresti vederlo qui e ora… Certo… Toccarlo… Come no… però mi rendo conto che esiste un Dio personale e un Dio impersonale, noi da uomini viviamo un Dio personale nella nostra immaginazione, in quelli che sono i nostri codici di comprensione, però c'è una comprensione sottile che te lo fa vivere in maniera impersonale, e quindi qualcuno lo chiama energia universale, un altro può chiamare in un altro modo, io sono cattolico, cristiano e lo chiamo Dio. Hai una ricerca alta, filosofica, spirituale e nello stesso tempo però ti affidi alla fede popolare, alla tradizione popolare… Noi sono un uomo di tutti i giorni, perché io sono figlio e fratello di Sant'Alfonso Maria di Ligori che è stata la guida del popolo, se pensiamo alle cappelle serogene, gruppi di preghiera guidati prevalentemente da persone del popolo. Io sono un uomo del popolo e vivo la mia fede innanzitutto in maniera devozionale, quindi una parte devozionale abbastanza passionale e anche confidenziale con il Signore e poi giustamente ho dei momenti di riflessione un po' più alta. Cosa vuol dire vivere la parte devozionale? La parte devozionale è cantare, no? Confidenza con il Signore, quindi muoversi come se fosse un tuo amico, uno di famiglia. Spesso questi canti devozionali potrebbero essere anche definiti un po' canti randaggi, comunque sono canzoni, sono canzoni di amore, di aspirazione e quindi di per sé già c'è una verità, che uno vorrebbe stare meglio e vorrebbe essere anche un po' più vicino a una verità. E anche devozione al rosario? Sembra una roba un po' da vecchiette, no? Una cosa un po' antica, passata di moda. Come un ragazzo che recita il rosario? Non fa niente di questo, ma quello che recita non è vero, perché poi devo dire la verità, pure molti ragazzi che vengono ai miei concerti li vedo con il rosario, quindi non deve essere una moda, deve essere una scelta, una esigenza. Diciamo una cosa che non ho inventato io, che l'hanno detto tutti, l'ha detto padre Pio, l'ha detto il Papa, cioè il rosario è un'arma. Adesso l'arma tu la usi sicuramente per proteggerti, la usi anche per festeggiare momenti belli, perché si prega anche per festeggiare un evento positivo e insomma credo che il rosario sia un'arma che ti accompagna. C'è stato un momento doloroso che forse ha fatto deviare il tuo percorso e l'hai indirizzato di più verso la ricerca dell'essenziale, giusto? Certo, il distacco che è una sorta di legame, è da una persona sicuramente, il distacco forzato, la morte è un legame staccato, nel senso che tu devi distaccarti per forza da una persona, però ne resti comunque sempre legato. Ognuna ha una reazione, la mia reazione è stata quella di allontanarmi dal sogno, dal desiderio, dal desiderio di, ma se vuoi anche di purificazione personale, di percorso di ricerca personale. Ma ti dirò che non ci sono riuscita, perché sentivo fortemente comunque di pregare e sentivo fortemente di continuare questo percorso. Non ti sei arrabbiato con Dio che ti ha tolto una persona cara? No, no questo no, perché quando tu sei addolorato non sei arrabbiato, sei addolorato, il dolore è una cosa e la rabbia non è un'altra. Il dolore non è necessario, però con il dolore tu incarni una cosa, perché c'è una differenza tra l'incarnare il dolore e conoscere il dolore. Attraverso gli altri tu conosci il dolore. Se muori una persona che tu conosci, puoi capire il dolore di un'altra persona, che magari è un fratello, non lo so, è un marito, eccetera. Quando tu incarni una cosa è completamente diverso dal capirlo, cioè la vivi profondamente. Non so spiegarti cosa succede. So però che da quel momento ho cominciato a incarnare pure la musica, mentre prima la musica la capivo e la facevo, dopo l'ho incarnata. Dirti qual è la differenza non riesco a dirtelo, però so solo dirti che sostanzialmente diventa una cosa completamente diversa, anche se sembra la stessa cosa. Io non credo che sembra la stessa cosa, credo che si capisca la differenza. Speriamo. Senti, però c'è qualcosa che non mi torna insavvitabile, perché la domanda di senso e di significato è connaturata e propria dell'uomo, vero, dell'uomo che non bara con la sua vita, ma che non si accontenta. Però poi ci vuole un incontro personale, perché non basta la ricerca mia singola, non è una scalata solitaria, bisogna incontrare qualcuno. A te, tu che hai incontrato che ti ha talmente affascinato e preso per cui hai deciso di svoltare? No, io innanzitutto ho deciso di svoltare, ma non ho svoltato, perché il nostro rapporto è con le nostre miserie. Perché sai, quando comincia un cammino la gente poi pretende da te una perfezione. Ma chi è perfetto? Io sono imperfetto, cioè cerco, cerco di partire dalla mia miseria e riscrivere tutti i giorni la mia vita e la mia storia. Felice per quelli che non ne hanno bisogno, io ne ho bisogno, quindi ho incontro tutti i giorni i miei limiti, ma anche la mia aspirazione. E le persone che ti hanno cambiato un po' la vita di più chi sono? Ma ci sono delle persone della tua vita che sono fondamentali, che ti cambiano la vita, però devo dirti una cosa. Se sei attento in ogni relazione, anche quelle che ti sembreranno incontri inutili o incontri non positivi, anche nella divergenza, anche nell'incomprezione, c'è sempre una grande verità, che quella cosa ti cambia la vita, ti prepara per il nuovo giorno. Quindi tu sei uno che non ha paura del tempo e del domani, non hai rimpianti, hai sempre la voglia di scoprire il nuovo. Ma io non ho paura, ma ho tutte le paure, non esiste una paura. Cioè noi quando siamo in uno status di paura, abbiamo tutte le paure. Hai paura di morire, hai paura di continuare, hai paura di morire, ma hai paura di vivere. Hai paura di vivere, però hai paura di morire. Poi non hai più paura, perché ti senti in connessione con la vita e la vita ti fa muovere senza alcuna paura. Noi siamo tutto, secondo me siamo l'insieme di una serie di cose. siamo l'insieme di colori chiari, colori scuri, il mare è agitato, poi il mare è calmo, siamo questo. Si aspira ad avere una imperturbabilità interiore dell'anima. Mi dicono che molti maestri spirituali, molti santi ci sono arrivati a questo. Io sono ancora in un percorso tortuoso e di inquietudine, però comunque devo dirti sono felice perché amo profondamente la mia musica e mi piace tantissimo quello che faccio e anche il rapporto che ho con la gente. Cioè io, la mia musica e la gente. È un dono enorme, no? Non lo so. Beh sì, hai il dono di saper suonare e di comporre e quindi di proporre arte. L'arte è bellezza, la bellezza scuote, smuove e commuove anche. Io però non posso alimentare il mio ego e quindi non posso. Perché? Perché è evidente che un dono è una responsabilità. Certo. Cioè è una responsabilità importante. Tu lo senti questo compito o no? No, non lo vivo così io. Io lo vivo in maniera molto semplice, come un gioco. Così come quando ho cominciato da piccolo vicino al jukebox, mi piaceva il sassofono perché era una stella, era una stella che suonava. Continuo a viverlo così. Lo vivo come gioco, lo vivo come possibilità di scoprire mondi nuovi, ma anche di scoprire la vita attraverso gli eventi. La responsabilità è degli uomini che hanno una coscienza di essere dei leader oppure hanno una coscienza di essere guida. Io non ho questa coscienza. Penso sempre che quando non siamo pronti poi diventiamo ciechi che accompagnano altri ciechi. Ecco, la mia più grande aspirazione è non essere mai questa nella vita. Che cosa vorresti essere adesso, domani? Quello che sono. Sei contento? Sei meglio adesso di vent'anni fa o dieci anni fa? Sì perché riesco a vedere tutti i miei errori e tutti i miei limiti. Il tuo desiderio è più grande Enzo? Il mio desiderio è quello di imparare sempre qualcosa di nuovo e di dare alla musica sempre qualcosa di utile. Mi regali una musica e mi spieghi perché una musica naturalmente è tua con cui chiudiamo questa nostra chiacchierata. Mia odio l'altro. Come vuoi tu? Allora come vuoi tu? Io sono molto legato allo Stabat Mater di Pergolesi perché per me è un suono proprio di partenza importantissimo. Non potrei mai non omaggiare uno dei capolavori della musica. Credo che forse sia uno dei pezzi più belli scritti nella storia della musica. Abbiamo dimenticato questa musica e quindi abbiamo perso il senso del sacro. Per me musica sacra non è musica liturgica. Certo. Per me il sacro è tutto ciò a cui noi diamo un significato nello spazio e nel tempo al di fuori di esso. Esempio. Per me Bob Marley è sacro. Adesso chiaramente un qualcosa che sia sacro come anche una musica devozionale popolare può diventare liturgica perché un organo costituito decide di utilizzarla durante una celebrazione. Esempio. Alcuni miei testi. Padre Alessandro Gargiulo che ha scritto due anni fa un libro di catechesi per il cardinale Sepp. Utilizzò alcuni miei testi. Ma erano partiti come canzoni, canzoni popolari. Poi ti scopri che magari hanno una connessione con un libro di catechesi che si vuole muovere nel rapporto tra, non lo so, tra l'insediamento urbano, il cemento e quindi le nuove formule di messaggi di catechesi giovanile. Lo stesso come uno Stabat Mater che scrisi io metà in latino e metà in napoletano è stato poi utilizzato il venerdì santo anche nella diocesi di Napoli anche nei miei concerti di Sacro Sud. Io credo che è una questione di gusto e di scelte di musica. La musica sacra può diventare liturgica e spesso vengono pure utilizzate delle forme di musica pop popolare, molto popolare per le celebrazioni. E' una scelta anche quella. Io credo che sia proprio fondamentale questo rapporto tra la musica sacra che diventa liturgica e anche con la musica scritta. Quindi io partirei proprio dallo Stabat Mater di Pergolisi e mi ricorderei di questa formula, di questa grande polifonia che secondo me in chiesa è una delle cose più belle. E ce l'ascoltiamo. E ce l'ascoltiamo. Grazie Enzo, grazie di cuore davvero. Grazie a tutti.